Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo venne da Gesù un lebroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva Se vuoi, puoi purificarmi? Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse Lo voglio, sii purificato. E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse Guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori, in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore Proseguendo nella lettura del Vangelo di Marco Gesù, che è andato via da Cafarnao, sta camminando sulle rive del lago incontra un lebroso. Forse noi non abbiamo mai incontrato un lebroso nella nostra vita però abbiamo sicuramente incontrato delle persone che ci facevano paura, a volte ribrezzo che abbiamo guardato da lontano, che abbiamo cercato di evitare ecco, i lebrosi erano così erano gli impuri erano quelli che dovevano urlare lebroso, lebroso, perché tutti si allontanassero erano quelli da tenere molto a distanza e invece questo lebroso che grida verso Gesù in ginocchio Signore, se vuoi puoi purificarmi questo è il termine tecnico puoi rendermi puro perché la lebra era considerata come anche le altre malattie ma specialmente la lebra un castigo di Dio con cui diventavi impuro perché avevi fatto dei peccati ecco, sempre quel verbo così importante nei Vangeli Gesù ne ebbe compassione ecco, al cuore delle sue azioni al cuore delle sue parole c'è questo compatire entrare in profondità nella sofferenza dell'altro patire insieme sentire su di sé come noi diciamo mettersi nei panni di sentire su di sé la sofferenza dell'altro tese la mano e lo toccò nessuno toccava un lebroso aveva una paura terribile di essere contagiati come noi adesso non ci tocchiamo per il covid, no? paura del contagio ma allora ancora peggio ma Gesù non ha paura di toccare ma come Domenica ha preso per mano la sua cera di Pietro oggi tocca il lebroso davanti a quella domanda a quella invocazione se vuoi puoi purificarmi dietro a questa invocazione c'è la domanda che ci facciamo tutti davanti alla sofferenza ma Dio vuole che soffriamo? ma quando arriva davvero la sofferenza noi ci chiediamo ma se Dio è amore se Dio è padre se sono un suo figlio perché? perché? oggi nella prima lettura leggiamo il libro di Giobbe no, leggiamo il libro del Levitico sui su appunto sui lebrosi e ci chiediamo ma la sofferenza piace a Dio? ecco il Vangelo ci dice no se vuoi puoi purificarmi sì lo voglio io voglio che tu sia guarito certo non tutti noi sappiamo che non tutti guariscono Dio non guarisce tutti ha guarito solo alcuni come segno che nel suo regno la sofferenza non ci sarà più la malattia la morte ma che ora misteriosamente bisogna dire ecco come qualcuno ha detto il dolore non è una punizione è un mistero un mistero che ha attraversato anche Gesù ecco misteriosamente siamo chiamati ad attraversarla la sofferenza e la morte insieme a Gesù perché anche dentro la sofferenza e la morte c'è una strada misteriosa di vita come dentro la croce e allora quel lebroso che si affida a Gesù viene purificato viene guarito non solo guarito nel cuore nel corpo ma anche nel cuore viene salvato e poi il ritornello del Vangelo di Marco con non dire niente a nessuno della prima parte il segreto messianico perché perché Gesù non fa i miracoli per convincere Gesù non vuole l'applauso non vuole una fede che nasce dal miracolo Gesù non vuole soprattutto essere strumentalizzato perché uno che fa i miracoli viene subito etichettato allora lui è il taumaturgo lui è il messia che come se li immaginavano loro però che ci libererà dai romani lui è quello che ci risolve tutti i problemi Gesù non vuole questo perciò chiede a tutti di tacere ma il lebroso guarito è troppo ha il cuore troppo pieno e lo va a dire a tutti rivelò il fatto a tutti quanti e Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città e se ne stava in luoghi deserti perché vuole vorrà svelare la sua identità a chi è disposto ad accogliere questa rivelazione un po' per volta fino alla croce a chi è disposto a chi è disposto Grazie a tutti.